che attende domenica prossima alla Palevangelisti la gara contro i milanesi della Revivre. L'incontro inizierà alle ore 18 come dice Elena Ballarani. Si avvicina il match che chiuderà il girone di andata del campionato di Superlega. I Block Devils guidati da coach Bernardi proseguono la preparazione forti delle cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions ma con la consapevolezza di non abbassare mai la guardia di fronte a un avversario sulla carta abbordabile. Perugia-Milano sarà anche una sfida in lingua serba tra Magno Matanasievic e l'opposto mancino della Revivre Sascha Starovic. Bomber di riferimento di Perugia-Milano opposti della nazionale serba e da anni protagonisti del campionato italiano. Il match di domenica è dunque anche sfida tra Alexander e Sascha 200 centimetri e 25 anni l'opposto perugino, 207 centimetri e 28 primavera e quello meneghino. Attaccanti di razza anche con il loro servizio al salto, il destro Atanasievic e il mantino Starovic saranno con ogni promabilità l'ago della bilancia delle rispettive squadre domenica pomeriggio al pala evangelisti. Per Magnum, idolo della folla bianconera e per tre anni consecutivi attaccante più prolifico della Superlega parlano i numeri di Perugia che da quando l'opposto serbo è rientrato in campo dopo lo stop per infortunio ha saputo solo vincere in campionato con Atanasievic che nelle quattro gare da titolare vanta 64 punti con una media starato sperica del 56 per cento in attacco a cui vanno aggiunti cinque muri e due ace. Sei le gare giocate invece finora da Sascha Starovic, pure lui fermo a metà girone d'andata per infortunio con cento punti complessivi di cui dieci a muro e sei al servizio e due prove superlative contro Vibo e Latina chiuse rispettivamente con 26 e 28 punti. Due grandi bomber insomma uno di fronte all'altro domenica prossima. Al pala evangelisti intanto gli allenamenti proseguono. Bernardi sta dando continuità sul ritmo e sul sistema di gioco senza dimenticare il lavoro sui singoli fondamentali come il servizio, arma molto importante nell'economia del gioco bianco-nero. E con la pagina sportiva si chiude la prima edizione di Tef Channel News e grazie per averci seguito.